Buongiorno amici, siamo qui di nuovo, Gio, Rudy e Franci e oggi abbiamo un bell'argomento. Un'amica proprio ieri ci ha fatto una domanda carina. Possiamo dire che è la prima domanda veramente diversa che abbiamo sentito da tanto tempo. È vero. Originale. Originale senza dubbio. È una domanda particolare, infatti, è originale e particolare e darà sicuramente adito a fare dei bei ragionamenti. La domanda è questa per andare diritti al punto. Il bambino interiore muore? Allora, la risposta che la domanda è stata rivolta a me e la risposta che io ho dato istintivamente o ispiratamente scegliete voi è stata no. No, punto. Poi chiaramente questo no può essere argomentato parecchio. Intanto la domanda è molto bella ed è interessante. Suppongo che venisse inteso se muore come moriamo noi. No, perché se la domanda è se muore nell'arco della nostra esistenza in qualche modo, la risposta è tanto più e no ribadito più volte. Perché fa parte di quello che è da sempre, nella tradizione huayana, come diceva Mona Simeona anche, fa parte di unità di uno. Cioè il madre, padre, figlio e superconscio, conscio o subconscio, come vogliamo chiamarli, umakua, huayana, unipili, sono sempre presenti e sono tre unità di uno. Dove l'unità con la umakua, che in verità è da parte di noi più vicina all'origine, il nostro sé originario, il nostro sé padre, come lo chiamano, che è eterno, che è al di là dello spazio del tempo e non è soggetto a qualcosa che possa essere una frammentazione o una fine. È al di là di spazio del tempo. Gli altri due aspetti lo integrano, lo compongono, cioè sono sempre parti della umakua. Possiamo dire il corpo della umakua. Cioè tutto è uno. Quindi la prima risposta è no, è vera, è perfetta, perché in verità non c'è mai un momento in cui non esiste neanche la morte da questo punto di vista, come lo intendiamo noi. Mona è molto chiara. Mona ad esempio ci dice che tutto ciò che esiste, ogni singola particella dell'universo, ogni singola informazione, ha sempre in sé i tre sé. E questo dà una bella risposta anche a un'altra domanda che invece viene posta più spesso, che è se gli animali hanno un'anima, che penso sia stata posta anche a voi. La risposta chiaramente è evidente. Se ogni singola cellula è composta dai tre sé, è evidente che anche gli animali hanno i loro tre sé. Possiamo parlare di un subconscio collettivo, ma in ogni caso hanno anche loro la loro parte divina. La cosa interessante in quello che stai dicendo è proprio questa indivisibilità divisa, nel senso che essendo aumakua uno ed eterno, ed essendo uane e unipili, se vogliamo, forse è scorretto dire così, ma degli attributi o comunque delle modalità, degli strumenti con cui aumakua sviluppa la sua conoscenza, non possono che essere della stessa sostanza di aumakua. Esatto, ma perché a riprendere proprio quello che dice Promo Monna, ogni singola particella di polvere, ogni, no, ha i suoi tre sé, ma ogni singola informazione. Tant'è vero che nei dodici passi, questo viene ribadito, ogni singola particella di polvere che è stata coinvolta in questo processo. Esatto. Ogni atomo. Ogni atomo, ogni molecola. Quindi, in verità, ogni frequenza, già l'onda che crea, prima ancora che crei la materia, ha in sé connaturato, connaturati, tutti e tre sé. Quindi, anche quando noi passiamo di stato, cioè anche prima che passiamo questa forma, quindi se uno dice anche non esiste la morte, ma si passa di stato, anche quel passaggio di stato, ci saranno sempre tre sé. E che laumakua è qualcosa, secondo me, che sta ancora prima di quello che chiamiamo anima. Laumakua è la nostra parte proprio più vicina a Dio. Allora, sé o l'universo, o la grande vita, chiamiamola come vogliamo. Se questa grande fonte di vita è un oceano, laumakua non è neanche una parte di questo oceano, ma è una corrente di questo oceano, una di tante correnti che ci sono. In questa corrente, una piccola parte si stacca, idealmente, ma non è così, ed è semplicemente prendere la struttura, insieme a Luhane e Unipiri, di quella singola persona, quella che è la sua anima individuale. Quindi c'è l'anima individuale, che è quella che noi definiamo, tendiamo a definire noi stessi, quindi il nostro pensiero conscio, tutte le nostre memorie, tutti i nostri bagagli carmici, atavici, eccetera, eccetera, sono quelli che noi definiamo noi stessi qui. L'individuo. L'individuo, unico e ripetibile. Cioè, come siamo noi ora qui, non saremo mai più. L'anima cua sperimenta tuttavia se stesso in miliardi, infiniti, unità uniche, individuali. contemporaneamente, quindi quello che definiamo vite passate, presenti, future, per lui sono tutte una, tutto uno, tutto adesso, in nessun altro momento. Da quel punto di vista non c'è mai una divisione, non c'è una morte di una struttura, non c'è una divisione, noi siamo sempre tutto uno. Possiamo tuttavia staccarci da questa informazione, staccarci, avere un senso di sconnessione, non sentirci in unità, perché parliamo l'allora nel cuore, che poi vediamo, perché parliamo il senso di connessione, di unità, perché ci dimentichiamo tendenzialmente. Perché ci dimentichiamo. La parte profonda di noi, quella che ci riunisce a tutto, e sperimentiamo l'illusione di essere divisi. E ci dà l'opportunità, il bisogno, lo stimolo, che poi è comunque un'opportunità di crescita, di conoscenza, di sperimentare altre parti di noi. Ecco quindi quella divisione, ecco da dove nascono poi le anime gemelle, che non è altro che la stessa realtà animica, o lo stesso Aumakua, se vogliamo, in due forme diverse, che cerca di reintegrare una parte che percettivamente, in quel momento, vive come disgregata, sconnessa. Chiaramente, tutto questo ragionamento complicato dialetticamente è dialettico, nel senso che noi non, come Rudy prima diceva, l'anima che è una, indivisibile, è, è, punto, è, non è che può perdersi i pezzi in giro. ci sono tradizioni sciamaniche che fanno tutti dei, dei percorsi importanti, profondi e molto efficaci per il, per il recupero dei pezzi di anima, ma in realtà non è che noi abbiamo perso un pezzo di noi, abbiamo sviluppato una disarmonia che ci porta a sperimentare una disconnessione che non ci consente di riconoscere quella parte come nostra. E tu sai benissimo che come nel, nel disegno dei tre sé, questi, perdi, tra virgolette, nella tradizione, la tradizione sciamanica, perdi il concetto di anima individuale che secondo me viene dato appunto a un uomo e a unipidi, da madre e bambino, e questa sconnessione impedisce quella grande corda, quella corda d'oro che unisce la umacua. Quindi quando sperimenti una forte trauma, un disturbo, un problema emotivo, eccetera, eccetera, quindi che vai a dissociarti, che è una dissociazione, ovviamente, proprio vai a dissociarti, a disgregarti e non trovi più quella connessione con l'umacua. La connessione con l'umacua sempre e comunque è recupero tra virgolette l'anima perché non fa nient'altro che ritrovare l'unità. Nel momento che tu ritrovare l'unità... Trovare la percezione dell'unità che chiaramente è guarigione. Sempre e comunque. È come se improvvisamente ti senti eccomi a casa di nuovo e tutte le parti di te che non sono date via semplicemente le ritrovi. Le riconosci. È un po' il discorso che adesso dicevi di perdere l'aloe nel cuore. Si può correttamente dire che Ho'oponopono è un processo per recuperare l'aloe nel nostro cuore, ma ancora una volta è un'argomentazione dialettica perché in realtà il nostro cuore è aloe, quindi non può perderlo, può non ricordarsene più la dimenticanza, può essere proiettato in avanti o indietro e quindi non essere più presente, non essere più qui e ora e in quel momento lì non riconosce più la sua caratteristica. Ma questo non significa che non lo è. Tuttavia il fatto di non riconoscerlo ci porta a non farne esperienza consapevole e quindi a convincerci di non avercelo. In una casa diciamo infatti ricordare, quindi rimetterlo nel cuore, no? È proprio questo, perché il cuore non si dimentica mai in verità. Se il cuore non ha, il cuore è lì e l'informazione dell'aloe sta lì, nel senso noi possiamo staccarci, sconnetterci a Aole, come direbbe gli avogliani dal nostro cuore e stare solo nella testa e lì in effetti noi li troviamo qui noi stessi. Qui se qualcuno ci dice ma delle tradizioni sciamaniche ad esempio c'è questo discorso del recupero dell'anima, no? Come si connette con la tradizione ovaiana? Ce l'hanno? Sì, c'è, ma infatti anche la tradizione ovaiana troderebbe probabilmente in un altro mondo. Non è che perdi l'anima unica, cioè qui è qui il problema di terminologia. Di dialezzi, di parola. Esatto, perché per capire se cosa si intende, l'anima individuale viene data dai primi due aspetti, soprattutto da tua mente conscia e il tuo aspetto inconscio. Poi l'unipili può sentirsi attraverso che è un bambino che un bambino agisce, di fronte a un trauma di qualche tipo si ritira e protegge se stesso. E si protegge. Esatto, e a quel punto smette di guardare, smette di sentirsi in unità, va a difendersi. L'ipad, tra virgolette, non guardando più un aspetto, difendendosi a qualcosa che lo sente che lo turbi, che cosa succede? Tendenzialmente è come se, a me piace dire questo, non è tanto che c'è una piccola, possiamo anche dire idealmente che hai lasciato una parte di te lì in un linguaggio. La verità è che tu è una stanza della tua vita della tua casa che non stai guardando. La stanza della tua vita, della casa tua che tu non vuoi guardare perché c'è della polvere che non ti piace è la stanza a cui dai più energia nella tua esistenza perché ogni volta che decidi di passare per non guardarla devi fare un grande lavoro ed è vero che ci lasci la tua energia letteralmente ma non è che di conseguenza potremmo dire che ci sono delle parti di te bloccate lì. Certo, però le potenzialità di quella stanza sono sempre lì e ci basterebbe guardarle con amorevolezza invece che guardarle con paura. La casa è sempre tua. La soluzione è sempre in questo. La casa è sempre tua quindi non è che hai passato la stanza di casa tua basta che sei capace di accendere la luce di nuovo e accettarlo così com'è e cosa accende la luce? Ho'oponopono. Cosa vuol dire accendere la luce? La luce è la macua sempre presente che illumina tutto oltre le illusioni di ogni separazione e di ogni ogni giudizio giusto o sbagliato. Ma qua porta la luce. Tutto quello che sono le memorie e che sono l'ostruzione e che insomma è bellissima l'immagine del proverbio maori che dice che se tu hai il sole alle spalle davanti proietti ombra se tu ti giri vedi la luce quindi si tratta sempre di prospettiva e la prospettiva è determinata dalle memorie quindi ancora una volta il lavoro da fare è sempre quello di pulizia 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 O'oponopono è un recupero dell'anima? Certo perché ogni volta che fai pulizia stacchi via cioè tutte le tutto ciò che ti può rappresentire le illusioni della divisione e ogni volta che tu hai una connessione tra sé recuperi la tua anima quando? all'istante perché è lì non era staccata e persi pezzi in giro è lì non la stiamo guardando non la stiamo riconoscendo infatti alla conclusione di ogni ragionamento la missione di ognuno di noi è quello di riconoscersi di tornare a vedere chi sei di tornare a accorgerti di chi sei tu sei sempre quella cosa lì solo che accorgersene o non accorgersene rendersene conto non rendersene conto fa una differenza abissale chiaramente certo ma in questo discorso dei tre di come è spiegato ma anche come è illustrato proprio nello sciamanismo hawaiano con questi tre aspetti e personaggi caratteristici perché sono degli aspetti e delle caratteristiche di una cosa sola che sono profondamente e sempre costantemente come abbiamo detto fino adesso connesse attraverso cosa quei cordoni ogni tanto noi diamo o meglio non mettiamo troppa enfasi a quello che connette questi tre aspetti cioè ricordiamoci che la madre di la mente conscia uhane e il bambino hanno una loro corda una corsia preferenziale con cui comunicano quindi la mente può comunicare con il corpo subconscio le memorie eccetera eccetera ed è diretto sì è diretto questo questo canale se vogliamo di comunicazione quindi dalla madre al figlio dal figlio alla madre ma anche dal figlio al padre quindi tante volte noi possiamo anche con un sacco di lavoro impegno e dedizione continuare a nutrire questo rapporto questa relazione tra la madre e il figlio quindi uhane unipili la mente e il subconscio ma ci dimentichiamo di nutrire l'altro rapporto che è quello con qualcosa di più alto ecco che tutti e tre questi livelli di percezione proprio devono essere costantemente mantenuti attivi e allineati questo è il riallineamento anche di cui si parla talvolta non solo il recupero dell'animo il recupero del sé ma anche il riallineamento del sé dei dei vari aspetti conscio subconscio superconscio la connessione tra queste tre entità è data appunto come dici da questi cordoni che devono essere in allineamento ma quando si parla di allineamento si parla di pulizia perché quello che impedisce la comunicazione tra l'uno e l'altro e tra l'altro e l'uno è l'ostruzione di questi canali e l'ostruzione è data da quelle energie bloccanti che sono le memorie quindi esatto lavoro da fare è sempre quello di pulire infatti e in tutto questo la parola che abbiamo usato più spesso quest'oggi riguardo a questo argomento che è già la risposta è la connessione cioè la usiamo non solo in questo contesto ma ormai è di uso comune cioè se vogliamo riuscire a comunicare con il mondo esterno o con quello che c'è là fuori se non abbiamo internet o abbiamo una buona connessione c'è qualcosa che non passa e non passa adeguatamente o viene disturbato ok dobbiamo ripristinare una buona connessione e farlo con un certo intento ovviamente una certa consapevolezza certo a me mi viene in mente questa immagine poi toccando anche altre cose di cui abbiamo parlato in precedenza che erano anche le cose tolteche ma mi piaceva anche il discorso taoista perché mi tornava in mente questo pensiero che all'inizio c'è il tao il tao è è inutile neanche mettersi lì a dare qualsiasi tipo di definizione dal tao si genera l'uno dall'uno due la dualità e dal due il tre e dai tre diecimila esseri che sono tutto ciò che esiste indicativamente questo tre che genera diecimila esseri mi stava tornando in mente mentre si parlava perché sono appunto i tre i nostri tre se cioè tutto ciò che esiste e come diceva Mona tutto ciò che esiste da quando esiste la dualità quindi il gran principio terreno cioè il mondo fisico ha tre sé ha tre aspetti da quando si genera questi tre aspetti tutto esiste quando questo tre in qualche modo si viene riunito c'è la consapevolezza del tre si bypassa la dualità e si ritorna direttamente all'uno quindi quella è la la chicca c'è l'uno genera due che genera tre ma quando il tre torna ad essere uno bypassa anche la dualità i do in e lo young il maschile femminile giusto e sbagliato e ritorna direttamente lì lì a quell'uno che attenzione l'uno è appena lo specchio del questo è la tradizione torteca è appena l'immagine riflessa di quello che sarebbe colui che l'ha ideato perché già uno è qualcosa quindi quello è già un riflesso di qualche cos'altro ma quando fai oponopono che cosa fai in fine conti metti tre che diventa uno bypassi la dualità e guardi in faccia in qualche modo nel riflesso di Dio nel riflesso tuo nel riflesso tuo perché tu sei il suo specchio è una cosa enorme e lui si specchia in te esatto e per un attimo hai la percezione di essere no sei lo specchio attraverso quello Dio si specchia ecco dove nasce e si realizza l'ispirazione che poi all'interno della quotidianità è quello che ci fa fare le scelte giuste tra virgolette le scelte efficaci per noi proprio quello di ancora una volta connetterci con la nostra identità essere uno con ciò che veramente siamo e accettare di farci canale per l'ispirazione appunto quindi no il bambino interiore non muore no di farci canale di farci canale Grazie a tutti.